ciao a tutti ragazzi siamo su crafting simulator l'hanno portato per i two players sono andato leggermente un po avanti e se scrivete qua io l'ho utilizzato e mi ha dato la gazzella che è un pet che può ritornare utile in futuro comunque sono già a livello 10 un copper vediamo se questo mi dà il legno di betulla perché è una betulla mamma mia non l'avevo capito prima da adesso però la gazzella si può pure appoggiare mentori full allora la gazzella se si va su si ricorda ecco lo puoi upgradare e il presente ti ti regala della roba per stavate già dicendo ecco serve questo ecco in the tips gli scodi in the tips aspettate io non lo utilizzo questo esce pure normalmente in ah mi ha dato roba al massimo dopo mi rivede il video e vedo se mi ha dato roba comunque qua devi craftare la tua roba quindi vai su cell però non è che vendi la roba ok questa cosa non l'ho vista prima non l'ho sentita ah mi serve un po più di copper qua tipo potete craftare uno tipo io mi sono un po di log ancora berch non c'ho niente di berch scriver non ho più resource e poi qua andate su tools ok qua in questo gioco è fatto troppo bene ok e ora ho sia lo stone axe e sia lo stone pickaxe di upgradeati io sono andato un po avanti anche perchè penso che disco già di e disco e scocciate ecco alleluia che ho fatto e quindi volevo un po possiamo dire fare un po per fatti miei anche perchè non morivo dalla voglia di giocare troppo wrong tool allora taglio un po di copper taglio vabbè prendo un po di berch oh oh ma è scemo ma è scemo comunque suggerite il nome per la gazzella suggerite il nome perchè non è scemo boom 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 comunque in sto gioco è praticamente impossibile ma riuscita a level appare veramente troppo facile a level appare comunque si può togliere pure quello schifo tipo uno space per due di copper chissà che cosa ci sarà nei prossimi aggiornamenti comunque poi arrivano gli haters dico ma l'hanno già fatto su play the one console io lo faccio a modo mio quindi c'è 10 zone e l'ho messo come cosa comunque non è tanto famoso a livello di gioco qua il crafting simulator si chiama crafting simulator e quindi comunque è bello come gioco c'è il ciumo vabbè l'ho provato 30 secondi però comunque è bello ok non ho abbastanza roba qua non c'ho abbastanza non ho abbastanza risorse vediamo c'ho qualche cosa che posso draftare così mi libero allora io però voglio aumentarmi il backpack perché non è possibile che il tool shop aspetta qua c'è l'ho il tool shop e da qualche parte ci sarà il backpack shop mi sa che l'ho trovato? ecco no questo è il pack box ma poi questa cosa cosa emana robux store qua non c'è niente penso che è più un po' di craft tool e dove sta il backpack inventory materials c'ho copper fast travel c'è la città yes 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 ah ok io ho fatto 6 giù sono un figo sono un figo ok allora fammi buttare un attimo allora questa è stone ok ok così mi rimane se il berce il copper che materiale sono migliore boom eh comunque sto leverappando come un pazzo no non get wool wool come parlo io comunque magari fra un po' potrebbe arrivare una gara di costruzioni devo ancora vedere su minecraft comunque suggerizzo il nome per la gazzella perché sono curioso che non mi potete lanciare possiamo dire boom è distrutto e si è 14 ok non c'è spazio per altri 2 di copper quindi devo ritornare a piedi a livello 20 immagino che si sblocca la nuova zona al 30 vedrà un po' vedrà un po' in zona penso che me lo da vediamo su fast travel ok comunque oggi non c'è aurora sorry ah ok livello 20 ok livello 20 qui oggi grip aurora c'è perché allora hello amico boom comunque questo è il più po' è quello che non ho abbastanza risorse e non ho risorse quella asta non l'ho buttata quindi vediamo allora vediamo se sta di tools ridile come parla ice axe o la ice pickaxe il mio inglese è proprio comunque magari magari porterò di nuovo un video di di nuovo un video di di un gioco quello vabbè ho portato quello però ce ne sono molti altri della della horror portals c'è pure happy birthday Isabella che vorrei portare me lo sono un po' studiato prima e secondo me è bello poi ditemi nei commenti se vi piacerebbe se portassi uno di quei video perché comunque comunque secondo me un po' i giochi horror ci stanno pure mad city magari fra un po' lo vorrei portare di nuovo magari l'evento perché ci sarà l'evento più o meno periodo di halloween però sarà a tema acquatico quindi non è come la epic games di fortnite ok inventory full vediamo ho solo copper però tolgo un po' di questo di copper boom voilà arriva a 10 e mi prendo un po' di birch perché non so non mi fa craftare niente qui mi riempio di birch e di copper riempio birch e copper di inventory così faccio anche un altro expo olè vediamo se mi c'entra un altro di di birch boom ah però sto lo 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 e quindi c'è un altro spazio lol voilà uno di birch wipe it perché non funziona non funziona su quello enable non funziona andiamo settings non esiste il settings come vedete eccolo ecco aurora k l'ho invitata però stai in game quindi finché non esce non può essere avvisata della cosa infatti mi esce qua se entra nel game quindi ci posso non posso fare niente allora comunque ok vediamo ok non ho risorse però mi posso comprare la nuova axe vediamo quanto sta ok ragazzi comunque compro la nuova axe e faccio l'intro finale è passato velocissimo il tempo allora ragazzi per oggi il video è tutto e vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina delle notifiche e lasciare like e da Gabri è tutto è tutto Ciao!